Prima vittoria in campionato per l'Arezzo Calcio Femminile che spugna il Porta Elisa con un netto 4-1 sulla Lucchese. Le Amaranto rischiano grosso in avvio con le rossonere di casa che colpiscono ben due traverse della porta di Valgimigli, prima su calcio d'angolo al sesto minuto e poi al tredicesimo su potente tiro dalla distanza. Al ventiquattresimo la formazione di Testini passa con Nishi e va in vantaggio la squadra retina. Trascorrono appena tre minuti e Ceccarelli per le Amaranto raddoppia insaccando di testa su corner di Paganini. Nella ripresa al 59esimo Bengasi accorcia le distanze con una grandissima conclusione sulla quale si fa cogliere in preparata Valgimigli. Il match si gioca a metà campo senza mozioni particolari fino all'86esimo quando l'Arezzo mette in casaforte la vittoria in contropiede con Bove che fa centro ancora una volta. Alla fine termina 4-1 con il gol a tempo scaduto grazie alla punizione della distanza di Vicchierello.